La Piede Montana Ovvero la fascia collinare che attraversa la regione del Veneto Ai piedi delle alte vette alpine Racchiude una incredibile quantità di tesori Aduavilla ci accompagna a conoscere la natura, la storia, la gastronomia E di grandi vini che caratterizzano questa regione Da Vittorio Veneto alla Valpolicella Un percorso di oltre 200 chilometri che invita alla vacanza attiva Ai piaceri della buona cucina Ed alla scoperta delle innumerevoli opere d'arte che costellano il territorio Un viaggio nella natura e nella cultura che stupisce ed affascina La Piede Montana Veneto Un'esperienza da vivere con tutti i sensi 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 Un'esperienza da vivere con tutti i sensi